mi sento veramente sola quando sono in mezzo alle persone con le quali non posso parlare della trascendenza mi sento veramente sola commento non devi sentirti demoralizzata per il fatto di non poter comunicare agli altri quello che adesso sai devi invece essere certa che se non puoi comunicare a queste persone la tua nuova verità se manterrai un comportamento corretto comunicherei agli altri che non sembrano volerti ascoltare qualcosa di molto più importante delle parole che potresti dire